Musica Benvenuti su Globus Sport News da Maria Grazia Miceli. Parliamo di calcio. È già cominciato il lavoro di Nicola Salerno da direttore sportivo del Palermo. Conquistare la salvezza appare ad oggi utopistico, ma il rosa-nero, nonostante le insistenti voci di dissesto finanziario, ci proveranno fino alla fine. Il mercato è l'unica arma a cui può affidarsi il club di Via Delfante, migliorare una squadra apparsa mediocre ed inadeguata alla massima serie e la condizio sine qua non per tenere viva la speranza, con la consapevolezza che il destino di Nestorovski e compagni non dipende esclusivamente da se stessi. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, il rosa-nero avrebbero ufficialmente chiesto al Chievo il difensore ex Catania Nicolás Spolli, utilizzato col contagocce da Maran nella prima parte di campionato. Per quanto riguarda il centrocampo, resta viva la pista che porta a San Agnucori. Livoriano sembrava ad un passo dal crudone, ma l'inserimento del Palermo avrebbe fatto tentennare il giocatore. Per quanto riguarda le cessioni, fermo restando il furioso interesse per Quezon, sulle cui tracce ci sono Sampdoria ed Anderlecht, altro nome in uscita è quello di Oscar Hiliemark. Lo svedese lascerà la Sicilia, infatti. Si tratta solo di capire la destinazione. Sembrava ormai fatta per il suo passaggio alla Dinamo Kiev, ma nelle ultime ore si registra l'inserimento della Roma, che non considererebbe il centrocampista come una priorità, ma come un'occasione utile per impolpare la mediana qualora gli altri obiettivi dovessero sfumare. Intanto l'arrivo in società di Nicola Salerno non ha placato la rabbia dei tifosi furenti per la gestione societaria adottata fino a questo momento. Dopo il tanto sostegno dei primi mesi, anche la curva Nord 12, la parte della tifoseria rosa-nero più calda, ha deciso di abbandonare la squadra. Una decisione sofferta ma necessaria, dovuta alle continue bugie di Zamparini, il reo di aver stravolto un progetto eccezionale che ha fatto respirare rosa-nero l'aria europea. Adesso l'Europa è lontana e gli spretti della Serie B continuano ad alleggiare minacciosamente. Arriva dunque il netto strappo tra tifoserie e società con un unico slogan, non ci meritate. All'inizio di questo campionato, si legge su Facebook, abbiamo fatto delle scelte. La più importante è stata quella di spendere tutta la nostra energia sulla crescita di questo gruppo e della Nord in generale. Consapevoli del fatto che poteva anche retrocedere, abbiamo cercato di ricostruire un'ossatura alla curva che resistesse anche alle più cupe probabilità. Abbiamo scelto di non contestare la squadra perché, essendo al di sotto, qualitativamente di quasi tutte le altre di Serie A, sarebbe stato solo inutile e deleterio. Abbiamo inoltre deciso di ignorare e trattare con tutta l'indifferenza possibile le vicende societarie, gli sbalzi d'umore, le periodiche bugie. Ci siamo fatti tutte le trasferte per sostenere questa squadra. Abbiamo incoraggiato i calciatori oltremisura e applaudito alla fine delle numerose sconfitte. Abbiamo soffocato la rabbia che montava dentro ognuno di noi per non rovinare tutto e per non esasperare l'ambiente, per evitare che qualcuno potesse usare un'eventuale nostra contestazione come capro espiatorio di questa situazione. Adesso basta spalti vuoti in casa finché non verrà fatta chiarezza. Passiamo ora alla Serie B. È stato ufficializzato il passaggio del giovane Lamine Yallov al Trapani con la formula del prestito dal Chievo Verona con diritto di opzione contro opzione. Yallov indosserà la maglia numero 27. Dal sito ufficiale della squadra arriva la notizia del trasferimento in Granata e le prime parole del calciatore Gambiano alla piazza trapanese. Sono davvero molto felice di essere qui. Ho accettato subito la proposta del Trapani e sono contento che alla fine stia andando tutto per il meglio. Non vedo l'ora di iniziare e ho tanta voglia di lavorare al massimo con la squadra e con l'allenatore. È molto importante per me cominciare a dare il mio contributo e cercherò di lottare partita dopo partita. Dobbiamo iniziare fin da subito a fare bene per cercare di raggiungere l'obiettivo della salvezza mantenere la categoria per noi e per Trapani è molto importante. Per quanto riguarda la Lega Pro e il calcio Catania in particolare Francesco Lodi vuole tornare nella piazza che lo ha definitivamente consacrato e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione da fonti molto vicine al ragazzo sarebbe forte la volontà di cedere alle motivazioni del cuore. Sarebbe per lui il terzo ritorno alle falde dell'Etna. L'Udinese attualmente rappresenta un ostacolo importante da girare ma alla fine il tutto dovrebbe concretizzarsi. Ci si prepara alla corsa finale del mercato e la dirigenza rossa-azzurra punta sull'ennesimo ritorno da parte di un eroe del passato. E ora passiamo al rugby. In Serie B esulta l'amatori Messina Nissa. La squadra giallorossa supera per 20-10 la partenome rugby e si rilancia in classifica. L'ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie B è stata positiva per il 15 peloritano. L'amatori Messina Nissa guadagna 4 punti in graduatoria e vede la salvezza. Il tecnico Adrian Di Giusto afferma Abbiamo sprecato molte opportunità e non siamo stati molto efficaci in alcune fasi del gioco. I ragazzi hanno sofferto molto in mischia e questo ci ha penalizzato però abbiamo vinto. Questa settimana andremo ad intensificare il lavoro in vista della partita di domenica contro il Paganica. Sarà sicuramente una sfida dura e quindi dobbiamo continuare a mantenere alta la concentrazione. In Serie C due squadre catanesi sono al comando, il Cus Catania nel girone 1 e la Fiamma Cibali nel gruppo 2. I Cusini continuano a vincere. La squadra etnea nella quinta giornata del girone di ritorno ha espugnato il campo del Palermo rugby per 13-0. I rossazzurri in classifica occupano il primo posto con due punti di vantaggio sul CLC Messina. I peloritani in casa hanno piegato la Siraco rugby per 36-17. Il Padua Ragusa, terzi in graduatoria, ha surclassato invece le aquile del Tirreno di Milazzo con il finale di 73-10. Nel girone 2 invece la capolista Fiamma Cibali Catani ha vinto a tavolino per 20-0 contro il CLC Messina che ha rinunciato alla trasferta. Successo esterno del mister Bianco per 7-5 sul clan Ibleo. E infine i briganti Librino hanno battuto le aquile Enna per 7-5. Questa era l'ultima notizia di oggi. Per continuare a tenervi aggiornati sulle notizie sportive non solo vi invitiamo a visitare il nostro sito www.globusmagazine.it Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.